Ha scelto la solennità dalla Madonna della Guardia, il Vescovo di Tortona, Monsignor Vittorio Viola, per comunicare ufficialmente ai fedeli il suo commiato della Diocesi. Papa Francesco, infatti, lo aveva recentemente nominato segretario della Congregazione per il Culto e la Disciplina dei Sacramenti. Un annuncio che era nell'aria e che il Vescovo ha raccomandato di accogliere nella fede e sotto lo sguardo della Vergine Maria. Monsignor Viola era stato eletto alla guida della Diocesi il 15 ottobre 2014, prendendo il possesso due mesi dopo. Piemontese di origine, entrato nell'Ordine dei Frati Minori dell'Umbria, ha svolto con diversi incarichi la sua missione nelle terre di San Francesco, in particolare presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, prima di essere nominato Vescovo ed essere inviato a Tortona. Del conferimento del nuovo incarico si sapeva da fine maggio ed ora, durante il pontificale presso la Basilica di Nostra Signora della Guardia, è stato dato l'annuncio ufficiale, comunicando anche il nome del suo successore, che sarà un signor Guido Marini, genovese, molto conosciuto, in quanto maestro cerimoniere delle celebrazioni liturgiche, pontifice, prima con Benedetto XVI e attualmente con Papa Francesco. Inoltre è responsabile della cappella musicale Sistina. Il Santo Padre presto lo consacrerà a Vescovo, poi lo invierà a Tortona. Accogliendo l'incarico con la massima disponibilità e molta umiltà, Monsignor Marini, nel suo primo messaggio inviato alla Chiesa Trottonese, ha chiesto di accompagnare il suo cammino con la preghiera, per poter seguire degnamente la volontà del Signore. Ha poi ricordato i suoi predecessori e inviato un saluto al clero, ai fedeli e all'autorità, mettendo tutti nel cuore di Gesù e assicurando il ricordo quotidiano. Grazie a tutti.